Sì, è uguale a quella che c'è, è più pesante, riesco a lanciarla, hai visto che sono arrivato, hai visto? Adesso non li vedo più però. Sai anche cos'è? Che questa qui è rigida, è quella che uso più da spinning che da gomma e non riesco a tenere il filo bello atteso perché vedi che non c'è peso, c'è soltanto l'amo e la moda. C'è anche il barbo, l'avete visto che si è girato in corrente qua? Guarda dove c'è uno che da... Eh, ti ho detto che questa qui è troppo rigida per fare questa pesca. Tra l'altro, mi dai un'altra mora. Perché lì c'è un altro, eh. Vai. Hai visto che roba? L'ha rifiutata. L'ha rifiutata. Eccolo. Oh, ho sbagliato anche questo, cazzo. Eh, le occasioni si sprecano. Nooo. Vabbè, andiamo giù. Vai giù te, va. Io sono un po' al limite. Eccolo che fa. Paglias. Chau. Tornata. Tornata. Imamo. L'ha rifiutata. Fai direnci. Puoi. Paglias. Puoi. Forse. Paglias. Puoi. Paglias. Questa è da 10 dodoi. Vediamo l'attenzione che si capta. Hai visto la puntatura? Quanto è semplice. Grazie a lui, sennò questo non veniva fuori. Grazie Vico. Allora dovremmo dirlo tutti insieme. Ciao bello. Ce l'ha dato lui, ciao belli. Vabbè è arrivato anche con la Mora, fatica ma è arrivata. L'ho aperto veramente illuminante. Che eleziona ragazzi.